I dati emersi quest'anno dalla ricerca certamente mostrano un cambiamento culturale e portano dai primi risultati importanti. Per proseguire su questa fase e cercare di ottenere quell'accelerazione che ci si aspetta bisogna procedere ottenendo una rimozione pressoché totale di quelle che sono le barriere sia interne che esterne al networking. Ma questo va esteso un po' a tutte le categorie e sicuramente potrà essere posto alla base di una comunicazione e di una compartecipazione piena ed attiva alla vita dell'organizzazione. Essere consapevoli delle proprie peculiarità, delle proprie caratteristiche e portare avanti con tanta energia positiva, le proprie determinazioni e i propri valori. Auguri a tutte le donne, lavoriamo insieme perché non sia più necessario avere una giornata come questa ogni anno.